Live from wherever you are right now, it's The News! In ogni pasto principale dovremmo assumere carboidrati, frutta e verdura e ogni giorno dovremmo assumere legume e frutta secca. Un po' meno spesso dovremmo assumere dei latticini e massimo due volte a settimana carne rossa, uova, pesce e soprattutto pochi dolci. Bene, se seguirete queste indicazioni avrete una dieta sana ed equilibrata. Grazie e arrivederci! Grazie a tutti!